Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti signori, allora oggi andremo ad affrontare il USM in coppa, prenderemo le pallonate quelle belle, belle, pesanti signori, prima di partire dal video io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio, vi ricordo di passare anche dal mio secondo canale mi trovate come maullo941biz in cui portiamo serie alternative e gioie diverse rispetto a quelli che partiamo su questo canale vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date al canale e alla serie vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come maullo941 sia su Instagram che su Facebook dove tramite i social vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live, sia su questa piattaforma che su quella viola di solito qua su Youtube mi ci trovate ogni giorno alle 21, un minuto più, un minuto meno ultima cosa, date un'occhiata ai link in descrizione al video e a ogni video perché trovate tutte le informazioni disponibili per rimanere sempre in contatto con me detto questo signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video allora signori, andiamo a vedere un attimino le mail Songho venduto, tutto buono e beneditto offerta ritirata per Songho, ce ne freghiamo, l'abbiamo già venduto e Gibson, il nostro mail Gibson, strattaversando un buon momento dopo che si è rasato a zero, signori, ha più aria in testa, quindi si sente bello e più aerodinamico allora, contro il quest'em prenderemo le pallonate pesanti, signori però, allora, intanto andiamo a mettere il nostro mail Gibson, che vuole giocare poi direi, in porta torna lo Ray e qui ci siamo in attacco diamo fiducia, facciamo giocare alle Smith e alla Dino ok, così si alternano loro sulla destra gioca McGree, diamo spazio a quelli che giocano meno, signori Kaynon, Songho è venduto torna Wilding titolare e il piccolo Luna, lo lasciamo ancora dentro il piccolo Luna dai, anche se è stanco, no, 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 dai, mettiamo Kaynon mettiamo la coppia quella, quella, quella titolare sulla sinistra Kantè ma diamo, diamo, diamo fiducia a Kantè in difesa tornano Clark Kent Lavello e qua sulla destra, invece di Melone, direi di portarci base là e poi abbiamo Melone Grievous Piccolo Luna Miura Giardino Sullivan sì direi che va bene, signori direi che va bene così sì, sì, sì ci portiamo loro, va bene andiamo a prendere queste pallonate pesanti da West Ham noi abbiamo come obiettivo questa è la EFL Cup come obiettivi, signori noi dovremmo avere qualcosa che riguarda la coppa eh, allora EFL Ligue 1 termina la metastro stifica ottieni 10 vittorie in questa stagione siamo a 10 eh, successo in patria e venete FK ah no, la FA Cup perfetto quindi di questa coppa non ce ne frega assolutamente nulla quindi scendiamo in campo belli rilassati giochiamo senza problemi e godiamoci la partita, signori ci siamo, signori Caraboc ah, la Caraboc Cup, questo ok, mi ero perso perché danno un nome e poi mettono un altro? vabbè comunque, è la Caraboc Cup bravo, Kante subito così, decisa su quella fascia dai, signori dai, dai, dai bravo, Kante bravo, Kante piglia la, piglia la Kante mia, mannaggia mamma mia che sei lento dai, dai riportiamo con calma lavello lavello, 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 lavello vede Kante che deve dare prova grande Kante come si gira bene grande Kante bravo Kante bravo Kante tienila sulla fascia tienila sulla fascia grande Kante guarda il centro, guarda il centro guarda il centro spizzala ma porca attenzione a loro subito sulla corsa di sinistra si vogliono rifare del del rischio subito attenzione, attenzione, attenzione attenzione, attenzione mamma mia no, no, no signori mamma che parata mamma mia che parata grandissimo attenzione calciandolo per loro calciandolo per loro riusciamo a metterla fuori si, riusciamo a metterla fuori attenzione ancora loro ancora loro l'interventore in scivolata mamma mia ma questi che stanno a fare cioè non riusciamo più a uscire signori non riusciamo più a uscire la cosa è pericolosa non riusciamo più a uscire la cosa è pericolosa calcio d'angolo battuto no come cazzo non l'è buttata doveva spazzargli e l'ha passata al centro ma porca non riusciamo più a uscire signori il WestM ci sta tenendo qui il WestM ci sta tenendo dentro la nostra di rigore stiamo tenendo però signori stiamo tenendo calcio d'angolo ancora per loro è un assedio è un assedio del WestM eravamo andati vicini al gollo noi e adesso il WestM grande la stop di Kanté è partito Kanté signori è partito Kanté è partito Kanté non lo fermi non lo fermi Kanté dai Kanté dai Kanté dai Kanté dai Kanté dai Kanté fatta la tutta fatta la tutta fatta la tutta Kanté 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 ma che l'hai fatto mezzo campo Poi abbiamo sbagliato all'ultimo. Calcio d'angolo per noi, calcio d'angolo per noi, dai. Kanté, 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 vede Lee Smith che riesce a girarsi. Lee Smith, Lee Smith, entra in aria, Lee Smith! Niente da fa, niente da fa, tiro murato. C'è qualcuno che ci va andare su quella fascia, ok, Mel Gibson, bravo, Mel Gibson, che trova Kanon, che trova ancora Kanté, che trova Lee Smith che riesce a girarsi. Vede il movimento dentro l'aria. Porca miseria, signori, bella partita, bella partita. Chi si viene a prendere questo pallone? Kanté, 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 per Lee Smith, che non perde il pallone. Lee Smith, Lee Smith, Lee Smith, riesce a entrare in aria. Lee Smith, Lee Smith, perché non l'ho passata, mannaggia. Kanté, ancora lui, Kanté, Kanté, assedio ora del, del assedio questa volta del Morecambe, signori. Assedio del Morecambe! Taglie così! Taglie così, signori! Chiamasi il gol della merda, ma va bene così! Aladino, la sblocca lui! Mamma mia! Assedio del West Ham prima e successivo assedio del Morecambe! Guardate, spettacolo! Chiamasi il gol della merda questo, ma tutto fa brodo, signori, tutto fa brodo. Grande Aladino! Insieme, recuperiamo la palla noi. Lee Smith, Lee Smith, Lee Smith. Si fa vedere Kanté pure sulla fascia, bravo Kanté, fatti vedere così, bravo Kanté sta facendo una buona prestazione. Kanté per Aladino. Aladino, 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 Aladino! Mamma mia, che passaggio in profondità era, mamma mia! Passaggio in profondità, embolo sotto tono, va bene così. Per noi di lusso, se embolo è sotto tono. Ci va di lusso. Attenzione, no, abbiamo riuscito a recuperarla. Grandissimo Clark Kent! Grande prestazione Clark Kent, riusciamo a ripartire con Kanon. Kanon, 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 cerca un momento di... Aspetta un momento di Kanté. Kanté si parte con il leggero ritardo. L'ha sfalciato, signori. L'ha facciato, dai. L'ha falciato, non l'ha facciato. L'ha falciato. Punizione, Kanté. Kanté la tiene bassa lì. Kanté la tiene bassa, grandissimo Wilding, ne fa fuori due. Wilding, riesce ad entrare in aria. Wilding, Wilding, Wilding! Aladino, fa il 2 a 0, signori. 2 a 0 di Aladino. Che va bene, che ma come se fessi già. Aladino, no, 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 no. 2 a 0, doppietta di Aladino. Secondo gol della merda. Va bene così, col West Ham ci sta. Col West Ham ci sta. Bellissimo. Bucata difensiva. Grande Aladino. 2 a 0. Prendi e porta a casa. Fine primo tempo, signori. Fine primo tempo. Dai così. Buono, 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 buono. Andiamo, scendiamo in campo per il secondo. Dai, dai. E teniamo questo ritmo. Spettacolo. Attenzione all'USM. Il Wilding sulla fascia di destra. Cerca l'affondo e ci riesce ancora su quella fascia. Attenzione. Non vi fate superare, signori. No, 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 no. No, 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 no. Meno male che fanno la cacata terribile. Si dispera l'allenatore di West Ham. Hanno fatto, si sono tirati addosso. Sì, sì. L'hanno fatto tutto da solo. Va bene così per noi. L'hanno fatto tutto da soli per noi. Va di lusso, signori. Per noi va di lusso. Dai che se fanno questi momenti così ci liberano. Ci liberano il centrocampista per il passaggio. Bellissimo. Dai, 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 vai, 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 zio, vai, zio. Aladino. 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 Tripletta, signori. Niente da dire. Tripletta di Aladino. Mamma mia, come li abbiamo bugati. Aladino è implacabile. Aladino è implacabile. Bellissimo il passaggio in profondità. Mamma mia, come è centrato l'angolo. Tripletta di Aladino. Bellissimo. Partita in sicurezza. Partita in sicurezza, signori. E indovinate che famo al sessantesimo. Sessantesimo. Sostituzioni di Aladino. Facciamo entrare il nonno Miura, signori. Esordio in coppa anche per il nonno Miura. Attenzione, attenzione ancora. Aladino. Ancora lui. Dal limite dell'aria. Aladino ci prova. No, l'ha tirata fuori. L'ha tirata al cantè per Usallivan. No, 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 no. Peccato. Di quanto è uscita? Di pochissimo, signori. Va bene. Facciamo delle sostituzioni. Allora, Aladino si è giocato il suo ultimo sprazio di partita. E entra il nonno Miura. Dai così. Nonno Miura. Poi possiamo fare entrare... Ma dai, non fare entrare nessun altro, signori. Così tutti riescono a riposarsi. E per la prossima partita abbiamo... Abbiamo i titolari pronti. Dai così, nonno. Dai così, nonno. Vogliamo anche la tua prestazione. Buona anche la tua prestazione, nonno. Dai, nonno. Attenzione, ripartiamo noi con Magri. Magri, Magri, Magri. Vede il nonno Miura. Nonno Miura. Nonno Miura. Attenzione. Il nonno. Il nonno. Il nonno al limite dell'aria. Il nonno. Complimenti al nonno che ha tenuto fisicamente. Presi a pallonate quelli del West Ham, signori. Pensavo che fosse completamente... In tre sono andati a chiudere il nonno. Incredibile, incredibile. Attenzione ancora. Lui, Kantè. Kantè per Le Smith. Che si gira. Le Smith, Le Smith, Le Smith, Le Smith, Le Smith, Le Smith. Colpo di tacco. Ancora il Morecambe. Cross. Pulito, pulito. 4-0. Clark Kent, signori. Clark Kent. Col suo ciuffo. Incredibile. Mamma, che colpo di testa. Pauroso. Bellissimo. Guardate, il perfetto assist di Kantè. Col piede destro. E Clark Kent. Incredibile. Col suo ciuffo magico. Il nostro Clark Kent. Trova il primo gol in coppa. Oh, fallaccio terribile, signori. Fallaccio terribile. Ma l'albito da norma del vantaggio. Megri, Megri, Megri. Vede la vella. Ah, no. Vase là. Che c'è va a Vase là? Vase là sulla fascia, giusto? Attenzione, vase là. Vase là, Vase là. Vase là, nono mi ora. Let's meet. Ancora. Oh, mannaggia. Signori, ma abbiamo subito un fallo terribile. L'albito dovrebbe un attimino estrarre qualche cartellino giallo a fine partita. Attenzione, Clark Kent. Grandissimo momento di wielding. Wielding, 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 wielding. Vedi, improvviso, Megri. Demi, Megri. Demi, Megri. Demi, Megri. La crossa al limite. Eh sì, vabbè, nono mi ora. Se saltano nono mi ora, gli saltano le ginocchia. Se nono mi ora salta per colpirla di testa, gli saltano le ginocchia, penso. Attenzione, ancora le West Ham sulla fascia. Grandissimo l'intervento di Clark Kent, signori. Prestazione paurosa di Clark Kent. Un gran difensore abbiamo trovato, un gran difensore. Niente, no. Passaggio sbagliatissimo. Non ho mi ora. Tre minuti di recupero alla fine della partita. È finita, signori. Dai così, pensavo di prenderle pallonate al West Ham e invece li abbiamo presi noi appallonati. Aladino si porta a casa il pallone. Ci sta, ci sta. 4-0. Fischi da parte del pubblico del West Ham. Ma ci sta pure questo, signori. Perdere 4-0 in casa contro una squadra di Ligue 1 brucia tanto. Ok, signori. Allora, andiamo a parlare con il nostro Mel Gibson, che è contento. Effettivamente, buona prestazione anche di Mel, che su quella fascia ci ha salvato più di una volta. Complimenti a Mel Gibson. Andiamo avanti con il calendario. La prossima partita che sarà di campionato contro il Barsley. Undicesimo. Noi siamo sesti, signori, in piena zona playoff. Buono così, dopo dieci partite. Va bene, signori. Detto questo, io vi ringrazio per questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga. Ciao!